Ma senti ma tu sei mai stata molestata? Certo. Davvero? No perché c'hai zinne dei fuori può essere molestata solo te. Perché ne fai pure te zinne dei fuori. Ah è proprio vero che le prime stronze sono proprio le donne. C'è ragione. Non ci si crede. Beh insomma non so se ti capita durante gli spettacoli che ci sono delle persone prevenute perché insomma sei una donna. A me una volta uno venne da me e mi disse sai non volevo venire perché sei una donna e le donne non fanno ridere. Io ho fatto non te preoccupa qui sotto c'ho il cazzo. Io l'ho messo subito al suo agio. Però scusa ma se tu gli dici che c'è il cazzo cioè non è una risposta maschilista? Guarda io non la vedrei così non è una cosa maschilista cioè più che una roba culturale io la vedrei come una cosa matematica cioè nel senso tu gli devi dare una risposta che è tre volte più forte alla provocazione. Capito? Un rapporto 1 a 3. Tipo che se uno ti dà una pacca sul culo te gliene dai 3 decalci tipo? Sì 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 è esatto capito? Cioè devi usare la matematica. Perché noi siamo schiavi di modelli che di donne che se fanno andare bene tutto e non si salvano da sole? Tipo? Tipo Cenerentola, orfana di madre, abbandonata dal padre in bagliate tre arpie che la serviziano e la schiavizzano nella sua stessa casa costretta nella cenere dalla mattina alla sera e però lei è felice. Cioè ribella di cenere no? Perché oggigiorno le fate non ce stanno perché se vedi una fata vuol dire che te sei fatta te che da mina. Brava che ti sei calato non lo cinogiono è chiaro. Che ne so te stai lì nella cenere eh? Le senti arrivare? Le va strapi in pugno dei ceneri glielo sbatti in faccia la madrigna proprio gli ucifero quel gatto de merda. Lo fai ruoteare glielo butti sulla serra lastra a quell'altra chiede in calcio. Cioè se c'è l'energia per pulire casa ce l'hai pure per minare o no? Ma sei un mostro. Oddio mi sa di sì? Se non lo sai che si può fare? Che? Che sto a pensare che tu li puoi molestare preventivamente. Ah da paura? Sì sì sì. Fantastico così li spiazzi? Sì capito tu arrivi buongiorno e papà pacca sul culo guarda un attimo se si ribella scusa. No a parte che se si ribellano è tutto da vedere capito? Però vabbè però pure questo è uno stereotipo. Ma perché? Ma tu trova bene uno che si ribella. Poi mandalo da me vediamo se ero stereotipo. Capito? Poi capito se si ribella tu tiri fuori il manuale di storia e dici senti bello così sono tutti gli abusi sessuali che sono stati perpetrati nel corso della storia. Quindi vai ratto delle sabine sacco di Roma tutte le grociate. Indiani d'America. Esatto adesso dobbiamo riscuotere. Re. Ci posso mettere pure il trono di spade. Ma sì tanto non sanno un cazzo della storia questa. Fatti. Te vedo sofferente. Oggi soffri. Stai soffrendo. È l'archetipo Mariano. È l'archetipo di chi? Ma che è Mariano un amico tuo? Ma scusami. No Mariano de Maria. Ah ma di Maria la Madonna. Ah ma quanti nomi che c'ha questa? Troppi nomi. Eh come i greci. No nel senso che la logica del sacrificio no? Che dovremmo eliminare. Ci viene dalla Madonna? Eh sì. Che si è fatta andare bene tutto. Cioè vabbè povera Madonna. Noi non ci eravamo. Magari sai gli sono successe tante cose. Eh certo però qualcuno gliel'avrà chiesto mai che cosa volesse lei. Secondo me no. Infatti. C'è la gravidanza tra capo e collo dell'utero così. Te l'immagini? Avrà avuto delle obiezioni logiche tipo c'ho 13 anni. Non c'ho più un soldo perché quelli che ci avevo l'ha usati per riparare il tetto dopo che è entrato Gabriele. Arcangelo non l'idraulico. Ah no dici Gabriele non so chi è scusami. Il mio idraulico in effetti si chiama Gabriele. Ah ma pure lui è venuto e sta. Che poi pensavo. No aspetta ce l'ho. Buona sa buona. Aspetta tu li prendi tutti? Prendi tutti i molestatori? Eh. Li metti dentro un bunker a 500 metri sottoterra? Gli dai tutte le viste porno. Così si iniziano a masturbare. La manetta così. Sì la rotta di collo. E poi con l'energia generata dalla masturbazione. Salvi il pianeta. Sì salvi il pianeta perché usi quell'energia capito? Come energia pulita. Altro che paleoliche capito? Ciao petrolio. Ciao Russia. Ciao. Quindi io direi che il problema risolto perfettamente. Allora la superficie come reagire alla prima botta l'abbiamo analizzato. In profondità ci siamo andate. E soprattutto siamo qua capito? Da dieci minuti ma fa che? Andiamo se a fatta stare sugli autobus. Dai pervertiti. Dai pervertiti. Alla fine è dove risolve noi i problemi del mondo? Manco ci pagano. Ciao. Grazie a tutti